bella ragazzi e bentornati qui su me la godo con il terzo appuntamento del torneo di mario kart che stiamo facendo tutti insieme negli episodi precedenti avete visto che ha vinto ron e gambo per vedere chi sarà l'ultimo partecipante che avrà arrato brutalmente dei moigani nella finale ragazze andiamo sul monte wario chi secondo te per forza pensavo lo scignone io io non ho mai detto io volevo scegliere il setupper ma non c'è credibile intanto un tot ma che tot è fungo è vero come se fai il tutto così vedi fedibile ah no fedibile, pazzesco via subito via subito no io cadro tante volte io cadro tante volte solo a capodanno chi non drifta a capodanno non drifta a tutto lato esatto per quale motivi, come si lanciano le banane mi spieghi perché ti sei preso quelle ruote fra via lontana, con che testo si lanciano le cose? con L1 fa tutto molto schifo comunque, incredibile io non ce le banane, il gambo le prende con il post come io credo che il primo sia il personaggio mio quindi prendo io con il benetano comunque si non lo so, lo vedi come era ma c'è tu c'hai tutta quella roba lì che stai facendo arrare fra? si perché io la cacca quando fai i salti mora prima dei salti stai vedendo intanto qui le proracuagge oh guarda 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 è passito cos'ho testa io te sto sputando sono un animale animale ma vedi tu sta a scosso vabbè io vado piano piano, io vado il panorama venga io vado la rimontanza guarda come salto sui tre occhi che nemmeno porca orca no no già facciamo mica mannaggia vai con la selina vai con la selina pipiri 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 l'haha video visibilizf port συν pipiri dot davanti nei due poi man big un pietra di amareggio a 4 no vabbè ma non corre il mio è mongoloide è spastico ma salta ma lo vedi guarda guarda cosa stai facendo sono pettato il mongo spastico questo il mongo spastico nooo figlio di troia no no vabbè no all'ultimo seconda no vabbè forse arrivi ottavo v hindu 1 40 venti per vedere 2 Arboa cosa è successo? cos'è? non c'è da una madre vera dove cazzo va? via, via grande! per le piccole! come? se non mi c'è il tasto? ma è questo qua è facile voi lo so imbecille stacca il volante lancio stacca stacca oh sei terzo dai dai no qualcosa o no? no merda non c'è qui c'è terzo dove è la strada? dove? ma no no c'era una curva mi ha finito anche con la terza non capisco è andata al contrario oddio non ce ne sono conto oh è vero che trovano ottava ottavo guarda le boba che attraversano questi vabbè che è questo? vuoi attraversare il tuo mucchio? mamma mia che drift quarto cosa fa? si mangia gli avversari con la piana saltami i sacchi saltami i sacchi quindi che cosa fai? no e vai più forte ecco qua a due ore le imparate eh ho capito ecco qua sono andato sono a misura di capo di sbagliare questi si sono ritogli no 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 è una mappa dai hai un rettellino di distante puoi recuperare ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ma qua fa culo ma che cos'è ma sparano cose dappertutto ancora sei mucche le mucche fanno hai tre sfini i funghi 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 che cos'è oddio oddio ma era tu guarda che prendi pure che mucchi per i signori questa è la è la sera del secolo è però che bucio di culo se tu che non sai giocare dico di saltare alla fine di salti non salti mamma mia che rimonta il capecchio del secolo il capecchio del secolo il capecchio del secolo che di pese ha avuto la terza gara su un pianoforte melodiodromo quando c'è due ora le faccio il tuo ma come fai a sburrare così ma l'hai fatto anche te hai fatto anche te hai fatto anche te si ma tu di più no anche un blanco se prendete le molette non andate più veloce ma guarda ron che mi gufa portacci su che cazzo mangia ma vaffanculo guarda come sputo guarda 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 ma perchè cazzo non urla così tanto quanto sei altro? ma ti ne manca dire che hai lì come tropeo no cazzo non cazzo ho saltato adesso eh non me l'ha dato eh hai capo di spero? che cazzo sto facendo? ah che pari mi potrebbe no ti stai peccato che cazzo frago lancerai tutte 3 ok 1 2 no no adesso io ho lancivo le cose da 6 minuti vado quattro secondo prima e secondo prima e secondo prima ultima sfida ma guardate ma guardate ma guardate c'ha le mani a comprare come cazzo gio qualcuno stacca stacca ma dove vai ma dove vai ma dove vai tanto oramai e va vincere signori mamma mia tranquillo è sicuro della tua vittoria stiamo a lasciare il tuo stick dai fra l'ottavo almeno quinto fra le cazzo di monete prendi le piccole voce così come inculato la piantina io inculo le piante guarda quelli dietro viviamo le botte del culo lascia il mischio cos'è il cos'è oddio mio che fuoco puttanella che cacchio è ma cazzo dai quando sei troppo ultimi danno le super muote cioè sei troppo ultimo da primo non tireranno mai ma perchè ho sbagliato le ruote perchè sennò arrivavo primo dai la seconda attenzione l'ultima curva non riesce a prenderlo e non ce la fa ma morire no no non ci sono terza secondi la seconda però ho vinto il grafico frax è ancora giocato tranquillo l'ultima curva per lui ma c'è un 2 potinello credibile credibile finito quindi in finale vedrete me Ron e i Gabo di Square e quindi grazie mille per il vostro like iscrivetevi al canale di Miracolo se ancora non l'avete fatto e da Ghostfrax, Ghostred, Deluxe e il più importantissimo Gabo di Square e tutto e basta e lasciate un like e bella ciao